Qualche giorno fa uno spiacevole episodio si è verificato a Canicattì, in provincia di Agrigento. Gli hanno rubato circa 150 litri di gasolio e per il proprietario della ditta di autotrasporti e movimento Terra, un uomo di Canicattì di 56 anni, si tratta del quarto furto subito. Episodio che l'uomo ha denunciato alla Polizia di Stato del commissariato cittadino. Il furto si è realizzato nelle scorse settimane nel deposito di mezzi che ha recintato, anche se non totalmente. Probabilmente, proprio dalla parte retrostante, laddove manca la recinzione protettiva, i ladri si sarebbero intrufolati senza essere visti e sentiti, consumando il furto. L'episodio si è verificato in totale segreto, nonostante la presenza dell'impianto di illuminazione che non è servito a scoraggiare i ladri. Inoltre, non ci sono impianti di videosorveglianza a tutela del deposito della ditta, particolare che complica le indagini della Polizia del commissariato del Comune in provincia di Agrigento iniziate tempestivamente subito dopo lo spiacevole episodio.